Amore, lei è Gaglia? Sì, non sapevamo di noi, sono proprio per andare a comunque coso. Diego! Sì, insomma, lui non fa che parlare di te, però lo immagino sapessi quando siamo legati, noi qui. Amore, sei bellissima questa sera. Anche tu! Ti amo o qualcosa del genere? Con Gaia De Laurentiis, Francesca Dunzi, Roberto Ciufoli e Diego Ruiz, autore e regista. Ti amo o qualcosa del genere? Cioè, che genere? Anch'io ti voglio tanto bene, comunque. Eh, qualcosa del genere capirai, la cosa è proprio aperta. In questa commedia si dice di tutto, tutto riguarda l'amore, l'amicizia, le coppie, i tradimenti, le corna, gli innamoramenti. Quindi, per riassumere, qualcosa del genere. Che diventiamo e neanche la notte, che al mattino aveva un altro sopportante, che cucinava male. C'era Dalla. Ma è buca, mi ammettilo. Lei ha reso la vita impossibile. No, era la tua vita impossibile con quel mostro, però, se giro per casi. Si ride tanto, Gaia. Si ride moltissimo, ma fondamentalmente dai, è amicizia. Ma che vero, anche amore. E tutto parte da lì. Sì, certo. Ma si ride tanto, va bene. Non litigate. Francesca, Francesca, tu che, ecco, tu che, un motivo per essere in scena con questi altri tre personaggi. Ma, guarda, no, è che io mi dimentico, perché non ho memoria, hai capito? Cioè, quindi ogni volta mi portano qui, dico, perché sono qui? Eh, non ti, perché tu avevi detto che ti piace, hai visto come è il mio personaggio, quindi non ho memoria. No, in realtà mi diverto molto. Ci divertiamo anche in scena, come avrai potuto vedere. È colpa sua, la colpa è tutta sua. Roberto, come ti hanno, come sei capitato? Domanda a me, eh? Come ti hanno coinvolto in questo? Come sei capitato? All'autogrill, ma hanno detto, guarda, abbiamo perso, vieni per favore. No, ero io che facevo così e lui mi seguiva. È da vedere, è da vedere perché è una commedia carina, è per farsi due risate, proprio senza avere il pensiero poi di capire qualche cosa di così approfondito. È proprio il profondo, è quello che noi profondamente ci divertiamo e facciamo divertire. Il tema è facile, lo possono capire anche... Io non ho capito. Francesca, che ha detto? Allora, Francesca, chi è Francesca? No, il motivo per vederlo è perché, appunto, come diceva Roby, si ride tanto, ma poi ci sta anche qualche piccolo spunto di riflessione. Insomma, uno comincia a pensare, ma sì, ma posso avere un amico, uomo, posso avere un'amica donna? Eh, insomma, uno ci pensa. Dai.